29 beni immobili tra appezzamenti di teleno fabbricati, locali commerciali e industriali e appartamenti hanno ricevuto una classificazione in base alla destinazione per finalità sociali e servizio al territorio. Questo è il contenuto della delibera che è stata approvata dall'Aggiunta Comunale. Tra i beni confiscati alla mafia che sono stati assegnati dall'Agezia Nazionale per i beni confiscati al Comune di Caltanistetta c'è anche un luogo dove il Comune ha deciso di realizzare una sala espositiva per il Museo delle Vare. E' un terreno in via Rochester in prossimità del quartiere San Luca. Ma non solo, c'è anche tra le novità più importanti contenute nella delibera, vi sono la realizzazione del cimitero per gli animali d'affezione in un terreno in contrada Calderalo e la realizzazione di un centro di urno per malati psichici e altre forme di patologie in un fabbricato con terreno in contrada Pantano.